Non si può essere liberi tutti quanti in un mondo migliore E' non anch'io, no, no, no I confini non esistono più in geografia Dove svizzera e padania son pornografia E la storia che condanna la stupirità E' non anch'io, no, 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 no Questa volta noi parliamo ma ne parliamo sempre in sostanza dell'importanza di essere uniti e di lavorare dal basso perché solo così creando una consapevolezza comune a tutti quelli sui quali poi si costruiscono le cose è solo così che si evita di continuare a far dormire la ragione. Noi siamo sempre il gridas, cerchiamo sempre di svegliare le ragioni fino a quando queste sono sveglie i mostri che sono il racismo, sono l'individualismo, sono l'egoismo e sono le paure, le paure sono dei mostri tremendi perché ti uccidono giorno per giorno. Noi, uso una parola pericolosa di questi tempi, contagiamo positivamente le persone quando vengono gli scout in estate a fare le settimane qua. Noi parliamo del gridas e del carnevale, li facciamo innamorare e quando si innamorano tornano portando altri, quindi si diffonde sempre di più. Ancora una volta si rinnova la tradizione del carnevale del gridas qua che parte dal quartiere Monterosa, si estende in tutta Scampia l'area nord. I pappici oggi è l'elemento identitario di questo carnevale, nel senso che tutti insieme con tenacia, insistenza, pervicacia, audacia e coraggio dobbiamo costruire un altro mondo. Dalla lotta ai cambiamenti climatici, ai beni comuni, alla fratellanza, ecco qua c'è un grande senso di comunità di cui da sindaco sono particolarmente orgoglioso. Viva il carnevale del gridas! Viva il carnevale del frattino!